Dopo l'acquisizione in concessione da parte del Comune della Spezia e della struttura, che si trova alla radice del ponte Taon di Revel, è stato infatti aperto un bando per l'assegnazione dell'area. Con un punteggio di 93 su 100, il progetto vincitore è risultato The Terminal. Vedrà la formulazione di un percorso che partirà nella primavera, continuerà nell'estate e nell'autunno per arrivare sino a dicembre, con una prospettiva che guarda la promozione gastronomica. All'interno del progetto ho letto la presenza dei miti di coltori, della farinata, dei panificatori riuniti, la presenza del birrificio del Golfo, una promozione gastronomica di qualità. Sulla promozione culturale abbiamo la compagnia degli scarti, abbiamo il conservatorio che parteciperà a questo progetto, abbiamo realtà di artisti e di realtà locali che vorranno dare il loro contributo. Abbiamo la promozione turistica con una diffusione di materiale e un servizio anche legato quindi nello specifico ai turisti che in quella zona lì passano e intendono passare il tempo in città e con questo vogliamo garantire un servizio più di qualità. Il gruppo di imprese ha ottenuto l'assegnazione dello spazio sino al 31 dicembre 2017. Nei prossimi giorni, con l'inizio del mese di maggio, i soggetti che hanno vinto il bando si metteranno al lavoro per essere pronti a partire entro i primi di giugno. L'idea è anche quella di ridurre gli schiamazzi notturni in centro città. Grazie a questa struttura e agli eventi che saranno organizzati, chi vorrà continuare le proprie serate potrà farlo senza disturbare la quiete dei residenti del centro. Siamo riusciti però di individuare il problema, il cosiddetto chiacchericcio che c'è fuori dal locale quando il locale chiude crea dei disagi a chi giustamente si vuole riposare. Allora a questo punto nel lungomare può creare le condizioni per decongestionare dal centro città e portare il flusso della movida lungomare. Parola d'ordine, far lavorare i commercianti e i ristoratori sia una certa ora, quando le attività chiudono e la serata si sta per spegnere, permettere a chi vuole riposare di riposare e a chi si vuole divertire di continuare a divertirsi.